Grazie, buongiorno. Il punto fondamentale da premettere immediatamente è che io non sono un esperto di intelligenza artificiale, io mi guadagno da vivere con la sicurezza informatica, però ultimamente abbiamo incontrato un problema per cui le tecniche di intelligenza artificiale sono fondamentali per riuscire a risolvere questo problema. Partiamo dalla definizione di rischio, noi di mestiere cerchiamo di capire qual è il rischio associato a un sistema ICT, in particolare sistemi ICT grossi in applicazioni particolarmente critiche tipo controllo di impianti o cose simili. In letteratura trovate centinaia di definizioni del rischio, sono tutte diverse fra di loro, però tutte concordano su una cosa, che il rischio dipende da due fattori, la perdita, cioè quanti soldi uno rischia se ad esempio un sistema viene attaccato e la probabilità che questa perdita ci sia, cioè che il sistema possa essere attaccato con successo. Quello che noi cerchiamo di fare è di fornire una stima più precisa esatta, più precisa accurata di questa probabilità. Quindi il mio problema è, preso un sistema informatico, riuscire a fornire una stima della probabilità che questo sistema sia attaccato con successo. Di solito probabilità di questo genere si stimano con le serie storiche, cioè quando uno va a pagare l'assicurazione della macchina, l'assicurazione della macchina dipende da qual è la probabilità che una macchina di quel genere con un guidatore di quell'età sia coinvolta in un incidente nella provincia di riferimento. Quindi serve una serie storica. Nel caso dei sistemi informatici le serie storiche non esistono. Uno perché i sistemi informatici sono tutti diversi tra di loro. Due perché i sistemi informatici in generale sono dinamici, quindi non c'è lo stesso sistema per cui calcolo le probabilità. Quindi queste probabilità non ci sono. Quindi quello che uno può fare è prendere un sistema informatico, farne il deployment, iniziare ad usarlo e dopo un po' vedere quante volte il sistema è stato attaccato con successo. In questo caso la sicurezza diventa una proprietà a posteriori, cioè vedo dopo cosa è successo nel mio sistema. Se le cose stanno andando male, cambio il sistema. Quindi attualmente la sicurezza non è una proprietà a priori nel progetto del sistema, si vede a posteriori cosa succede. L'alternativa che uno ha è immaginare di avere un modello matematico completo del sistema, di chi lo può attaccare, di quello che può andare storto, di quello che può funzionare e dedurre da questo sistema le probabilità che gli interessano. Questa strategia è ovviamente troppo complicata. Quindi sostanzialmente nel mondo in cui la sicurezza informatica è una cosa a posteriori si applica questa vignetta di Altan che dice facciamo il seno del poi. Ecco, quindi l'obiettivo che stiamo cercando di avere è di far sì che la sicurezza non sia il seno del poi, ma sia il seno del prima. Allora l'idea è la seguente. Costruiamo dei modelli relativamente semplici del sistema informatico che vogliamo studiare e dei vari agenti che lo possono attaccare. Abbiamo agenti intelligenti, agenti maliziosi, agenti informati, agenti non informati, abbiamo tanti possibili agenti. Eseguiamo su un sistema ICT il modello del sistema e quello degli agenti che li attaccano. Cioè costruiamo un ambiente, facciamo un ambiente ecologico, facciamo evolvere questo ambiente e vediamo cosa succede. Se noi facciamo questa cosa una volta abbiamo poca informazione. Abbiamo poca informazione perché gli attacchi diciamo sono molti sorgenti di casualità, molte sorgenti stoccastiche e quindi fare evolvere il sistema una volta sola fornisce poca informazione. Se noi invece il sistema, questa evoluzione la ripetiamo tante volte, alcune decine di migliaia di volte, attualmente noi siamo a alcune centinaia di migliaia di volte, costruiamo un campione statistico. Costruiamo un campione statistico e su quello noi possiamo ragionare, costruire statistiche, vedere quale sia la probabilità di certi eventi eccetera. Questa diciamo non è un'idea nuova, è un'idea del metodo Monte Carlo. Il metodo Monte Carlo la prima volta venne applicato al tempo delle esplosioni dello studio dei primi ordini nucleari. La cosa interessante è che il metodo Monte Carlo nacque non per gli ordini nucleari ma nacque per capire qual era la probabilità che gli scienziati quando non facevano gli ordini nucleari se ne andavano ai casino di Las Vegas, qual era la probabilità di riuscire a vincere le mani di poker. Anche allora costruire il modello di una mano di poker era troppo complicato, il modello matematico esatto di una mano di poker era troppo complicato, quindi insegnarono sostanzialmente ai calcolatori a giocare a poker, giocarono tante mani e videro cosa poteva succedere. Quindi l'idea è quella di avere un modello del sistema, avere tanti agenti che lo attaccano, ogni agente ha degli obiettivi, delle priorità, ci saranno agenti che vogliono arrivare a tutti i costi ai loro obiettivi e non sono interessati a non essere scoperti, i loro attacchi magari sono evidenti, altri che invece lavorano in maniera sotterranea, ci sono tanti agenti, vogliamo vedere questi agenti e come il sistema reagisce a loro attacchi, quindi il gioco ora non è più il poker ma è attacca il sistema, hai a disposizione un certo intervallo di tempo, se riesci ad attaccare il sistema con successo hai vinto, se no hai vinto il sistema. Visto che noi in questo usiamo dei modelli e possiamo costruire i modelli prima che il sistema sia utilizzato, se il nostro approccio funziona, se l'approccio funziona, noi possiamo costruire il modello del sistema e studiare come sarà attaccato, chi lo potrà attaccare con successo prima di utilizzarlo. Quindi in questo modo la sicurezza non diventa più una proprietà a posteriori ma diventa una proprietà a priori e l'analisi del rischio, la gestione del rischio può diventare uno strumento di progetto e non un qualcosa che si fa a posteriori in corpo revili. Per fare questo noi abbiamo sviluppato un insieme di strumenti, fare questa cosa non è una cosa immediata, abbiamo sviluppato un insieme di strumenti che ragionano su scenari, cioè i nostri strumenti che abbiamo sviluppato vi permettono a chi vuole analizzare un certo sistema di costruire uno scenario dove c'è il sistema e un certo numero di agenti che l'attaccano. Noi siamo interessati, le nostre analisi per il tipo di sistemi di cui ci occupiamo, siamo interessati a studiare attaccanti intelligenti che hanno priorità, sanno scegliere i loro attacchi in base a queste priorità e con degli obiettivi, quindi che non attaccano il sistema a caso senza sapere cosa vogliono fare, vogliono raggiungere certi obiettivi. Quindi abbiamo un insieme di strumenti che aiutano la costruzione dei modelli necessari per questo scenario e poi non solo vi dicono cosa può andare storta ma vi dicono anche come migliorare il sistema per evitare che ad esempio venga attaccato con successo. Una nozione centrale e qui arriviamo al punto fondamentale dove c'è un'intersezione secondo noi fortissima con l'intelligenza artificiale è l'idea di piano. Quando uno di questi agenti attacca il sistema non è che fa un attacco e raggiunge il suo obiettivo, i sistemi sono complessi, comprendono centinaia, migliaia di elementi, l'attacco inizia in un punto del sistema, si propaga passo passo mediante una sequenza di passi e arriva all'obiettivo. Se pensate ad esempio a qualcuno che voglia accedere a un certo database dove ci sono le informazioni critiche di un'azienda, l'attaccante partirà dal sito web dell'azienda, attaccherà altri sistemi dentro l'azienda, passo passo arriva fino a quelli che si chiamano i gioielli della corona, al database dove ci sono tutte le informazioni, i progetti futuri dell'azienda, dalla proprietà intellettuale eccetera. Per fare questo un attaccante ha di solito a disposizione decine o centinaia di modi, ci sono decine o centinaia di modi di partire dal sito web e di arrivare ai gioielli della corona. Ci sono strade diverse, strade che per un po' sono la stessa, poi si dividono, poi si ricongiungono eccetera, quindi ognuna di queste strade attraversa il sistema e l'attaccante deve decidere quale seguire. Qui ho copiato letteralmente delle due descrizioni di questi piani, questo viene da un sito di hacker dove si fanno vedere tutti i passi per partire da uno smartphone e arrivare a un database, questo è un attacco di tipo diverso, questo è un attacco un po' più a basso livello che si focalizza sulla topologia, sui componenti fisici della rete, ma sono esempi. Questo ad esempio è uno dei sistemi più semplici che abbiamo analizzato, in questi casi i gioielli della corona sono dei dispositivi qui che pilotano la produzione di energia elettrica, il punto da cui si parte quello là in cima, l'attaccante ha diversi piani per arrivare e controllare la produzione di energia elettrica. Il fatto che ci siano piani così complicati, piani molto lunghi, è confermato da questa statistica, questa statistica è stata pubblicata stamane, dove si dimostra che il numero di passi e il tempo che richiedono gli attacchi sta sempre più crescendo, questo perché i sistemi diventano sempre più grandi, c'è sempre più una netta separazione tra gli utenti e i gioielli della corona, ci vogliono più passi agli utenti per arrivare ai gioielli della corona. Allora abbiamo gli agenti, quello che ci interessa è come un agente possa costruire un piano componendo dei passi fino ad arrivare ai gioielli della corona. Gli agenti diversi saranno caratterizzati da strategie diverse per selezionare e comporre questi attacchi. Ogni attacco ha una probabilità di successo, richiede un tempo, ha una probabilità di essere scoperto da chi si occupa della sicurezza del sistema, eccetera. Quindi avendo le priorità dei singoli agenti, ogni agente con le sue priorità sceglierà una strada, quindi alcuni attacchi per arrivare ai suoi obiettivi, altri agenti con gli stessi obiettivi ma con priorità diverse sceglieranno attacchi diversi e così via. Ecco, quindi il punto fondamentale è come noi possiamo modellare un agente, questo è il nostro problema. Ci sono numerosi problemi, quello che abbiamo capito, non abbiamo le idee estremamente chiare, è una sfida che poniamo, non abbiamo le idee estremamente chiare su come farlo ma vi volevo far vedere alcuni punti che spiegano perché il modo classico non funziona. E questi sono tre punti. L'ambiente è dinamico, gli agenti interagiscono fra di loro, ci sono costi per raccogliere ed elaborare le informazioni per fare i piani. L'ambiente è dinamico, mentre un attaccante sta realizzando il suo piano il sistema cambia. Cambia perché? Perché vengono scoperte nuove vulnerabilità, nuovi difetti, nuovi attacchi. Se il tempo per un attacco è alcuni giorni, alcune settimane o alcuni mesi come in sistemi particolarmente critici, dove bisogna andare molto piano, in quei mesi possono essere scoperte nuove vulnerabilità. Quindi il piano originale può cambiare perché ci sono nuove vie, si aprono nuove strade. Contemporaneamente alcune strade si possono chiudere perché il sistema viene aggiornato e quindi alcune vulnerabilità vengono eliminate. Inoltre un attaccante può cambiare le connessioni. Ad esempio, numerosi componenti dei sistemi che abbiamo studiato sono dei firewall. un firewall permette alcune comunicazioni e ne impedisce delle altre. Se l'attaccante attacca con successo un firewall può aprire strade e chiuderne altre. Quindi, primo problema, l'ambiente in cui si pianifica non è fisso ma cambia dinamicamente. Secondo problema, gli agenti che attaccano il sistema possono collaborare o non collaborare. Cioè il fatto che ci sia un agente che attacca il sistema, o che ce ne siano due, tre o quattro, cambia sostanzialmente il problema. Perché questi due, tre o quattro agenti possono collaborare tra di loro, scambiarsi, uno scopre una password, ve la dice all'altro, uno scopre un'informazione sulla topologia e lo dice all'altro, oppure possono ostacolarsi a vicenda. L'esempio tipico è qualcuno scollega a certi componenti perché a lui danno fastidio, ma scollegando questi componenti danneggia gli attacchi di altri. Quindi c'è una interazione tra gli agenti, una non linearità e questa non linearità può andare a favore o a sfavore degli agenti. Ultimo punto, quello su cui abbiamo, diciamo, ci siamo scontrati di più, la raccolta delle informazioni. Ovviamente in un caso del genere quando l'attacco inizia la gente non ha tutte le informazioni, non può avere tutte le informazioni. Diciamo meglio, ci sono due grandi tipi di attaccanti, gli insider che hanno tutte le informazioni e gli outsider che non le hanno. Gli outsider devono fare un piano, ma prima devono raccogliere le informazioni per fare il piano, perché l'ambiente non lo conoscono. Quindi deve passare del tempo, servono delle operazioni per la raccolta delle informazioni. È ancora più complicato. Talvolta serve attaccare un pezzo del sistema, non perché questo sia il mio piano per arrivare ai gioielli della corona. Mi serve attaccare un pezzo del sistema perché attaccando quel pezzo del sistema io riesco a studiare un pezzo e ad esempio capire che da lì non c'è nulla di buono e devo andare da un'altra parte. E quindi, diciamo, ci sono tutte queste tecniche messe in atto per analizzare un sistema, scoprire le informazioni che vanno applicate e quindi non è possibile supporre a priori che l'attaccante conosca tutto. Se l'attaccante viene dall'esterno conosce pochissimo e deve acquisire le informazioni mano a mano. Quindi l'attaccante non sta solo attaccando, non sta solo pianificando. Alterna la pianificazione con gli attacchi, gli attacchi con la pianificazione. Come è stata affrontata in letteratura? La struttura dati principe che è stata usata nella letteratura è quella degli attagraph. Un attagraph sostanzialmente è una struttura dati dove a ogni arco corrisponde un attacco. E quindi costruire l'attagraph vuol dire capire quali sequenze di attacchi si possano fare per arrivare a un obiettivo. Quindi se ad esempio a un certo punto all'inizio l'attaccante si costruisce un attagraph che gli dice i passi alternativi, i piani alternativi, ogni piano è un cammino in questo grafo. Ora, senza entrare in tutti i dettagli, costruire un attagraph per un sistema un minimo realistico è una cosa impossibile. I nostri esperimenti, ad esempio, su un sistema con una quarantina di nodi, costruire l'attagraph completo, di questo che descrive come si può attaccare un sistema di questo genere, ha richiesto 10 ore su una macchina che ha un centinaio di core. Quindi se voi tenete conto che se io voglio fare centinaia di esecuzioni per applicare il metodo Monte Carlo, ognuna di queste dovrà costruirsi il suo attagraph, è evidente che una soluzione del genere non è assolutamente praticabile. Ma non è realistica, perché nemmeno chi attacca un sistema si costruisce l'attagraph. Quindi questo non è un grande problema, tutto sommato, perché l'attagraph non rappresenta, è un modo teorico di studiare le proprietà di un sistema, ma non rappresenta il comportamento di chi lo sta attaccando. Quindi chi attacca un sistema, l'unica cosa che può fare è costruirsi un sottinsieme molto piccolo di un attagraph. Questo che vedete è un grafo, questo è semplicemente un attagraph con 14 nodi. Se voi immaginate a questo punto qual è l'attagraph di questo, potete capire i problemi che abbiamo incontrato, che stiamo cercando di risolvere. Questo è il migliore stato dell'arte, questa è una bellissima tesi di dottorato che abbiamo trovato, che affronta questo problema, e però sono le assunzioni che fa. Fully observable, quindi ho tutte le informazioni sul sistema dall'inizio, deterministico, non ci sono sorgenti di randomness, è statico, non cambia, ci sono degli obiettivi, vabbè questo torna, diciamo il 4 ci va bene, i piani sono sequenziali, ok, non c'è tempo, quindi tutti gli attacchi richiedono lo stesso tempo. Quindi ad esempio per scoprire una password su un sistema dove gli utenti le hanno lunghe 5, oppure per scoprire una chiave 128 bit si fanno le stesse cose. Non è molto realistico e il pianificatore non è interessato a nessun cambiamento che avvenga mentre sta attaccando il sistema. Quindi questo è il migliore stato dell'arte, siamo un po' diversi dalle ipotesi con cui ci stiamo scontrando noi. Attualmente cosa facciamo noi? Abbiamo un modello molto semplice, forse molto sofisticato rispetto allo stato dell'arte, ma molto semplice rispetto a quello che ci piacerebbe avere. Si limita la lunghezza degli attagraph, si limita l'attagraph facendo cosa? Limitando la lunghezza dei cammini, quindi io considero il nodo dove sarebbe in questo momento che l'attaccante ha raggiunto dopo quello che ha fatto nel passato e costruisco i cammini a partire da quel nodo fissando la lunghezza massima dei cammini che considero. Quindi dati questi cammini c'è il primo parametro quanti sono lunghi i cammini, secondo parametro che descrive la gente come fa a scegliere un cammino, lo può scegliere in base al tempo che richiedono gli attacchi, in base alla probabilità di successo, in base al rapporto, in base a quanto pensa di avvicinarsi al suo obiettivo, ci sono numerose strategie. C'è un altro parametro che qui è chiamato continuità, nel senso scelto un cammino fa un certo numero di attacchi e poi vede cosa è stato scoperto nel frattempo. Il sistema è dinamico, quindi ad esempio un attaccante può essere molto continuo, quindi scelto un cammino ci si fa dieci passi e poi vede se è cambiato qualcosa, un altro può fare un passo e poi decidere subito di cambiare. L'altro proprietà è, siccome gli attacchi possono avere successo fallire, la testardaggine, quante volte ripete un attacco che è fallito prima di rinunciare e scegliere qualcosa. Quindi questo è il nostro modello attuale. È importante capire che il nostro problema non è un problema di ottimo, cioè noi non siamo interessati a capire qual è la combinazione ottima di quei parametri per attaccare un sistema, non ci interessa. Noi vogliamo essere in grado di modellare tanti attaccanti. Ad esempio vogliamo essere in grado di modellare quelli che si chiamano gli script key di ragazzini che attaccano un sistema senza nemmeno sapere cosa stanno facendo. Vogliamo essere in grado di modellare worm, cioè attacchi automatici. Vogliamo essere in grado di modellare un attaccante, quello che viene chiamato crime as a service. Attualmente molti, diciamo soprattutto parte dell'intelligenza del paese dell'est si sta riciclando, fornendo a pagamento abilità per attaccare sistemi, quindi conto terzi, outsourcing, o casi di cyber war, quindi diciamo in cui sostanzialmente il mio competitor è uno stato. Rendete conto che noi siamo interessati a avere un modello così flessibile che ci permette di passare dal ragazzino allo stato competitor, quindi diciamo il modello dovrebbe essere molto flessibile. Attualmente come modelliamo l'overhead, il tempo che si paga per raccogliere informazioni lo modelliamo assumendo che tutte le volte che si attacca un nodo, prima di attaccarlo la prima volta si paghi un overhead di raccolta informazioni su quel nodo. Quindi la prima volta che io analizzo un nodo vedo se mi conviene passare da quel nodo o un overhead. Questo è abbastanza realistico, nel senso alla fine il tempo che l'attaccante paga per raccogliere le informazioni è abbastanza accurato, molto probabilmente non è molto accurata la descrizione tra alternanza, come descriviamo l'alternanza tra attacchi e raccolta informazioni. Cosa vorremmo fare nel futuro? Nel futuro vorremmo avere un modello, ci piacerebbe, qui è la sfida, ci piacerebbe avere un modello dove un attaccante può eseguire una, scegliere una di alcune azioni, ad esempio può eseguire un'azione di raccolta informazioni, può eseguire un'azione che cambia la topologia del sistema, può eseguire un'azione di scelta di un piano, può eseguire un attacco di quel piano. Ogni attaccante ha a disposizione una quantità di memoria finita per fare queste cose, ovviamente la memoria che avrà a disposizione uno script kiddi sarà molto diversa da quella che ha a disposizione uno state competitor, però in entrambi i casi vale il fatto che la memoria è finita, nessuno dei due è interessato a costruirsi un attagraph completo, perché questo non è realistico. E poi c'è un'altra cosa interessante, è la località, come sfruttare la località temporale topologica. Località temporale vuol dire che quando attacco un certo nodo molto probabilmente l'attacco successivo lo farò sullo stesso nodo, dal punto di vista topologica una volta che ho attaccato un nodo, se non sto nello stesso nodo è molto probabile che io vada nella stessa rete e nella stessa sottorete. Queste due proprietà possono aiutare fortemente la scalabilità. Quindi questo è come ci piacerebbe nel futuro modellare, ci piacerebbe avere un modello che copra tutte queste cose. Attualmente non lo abbiamo, attualmente il nostro modello è più semplice, in particolare nel nostro modello l'attaccante continua ad attaccare, solo in certi momenti noi gli mettiamo una tassa, perché se ha fatto un certo attacco deve avere raccolto le informazioni e quindi in certi istanti gli facciamo pagare l'overhead della raccolta informazione. In futuro ci piacerebbe invece avere una cosa più flessibile dove ci sono le varie azioni, ognuna ha un costo, un tempo, in questo modo potremmo modellare più ragionevolmente il comportamento dell'attaccante. Questa è la nostra suite, vedete abbiamo degli strumenti che costruiscono il modello del sistema, questi costruiscono il modello dell'agente, questo simula gli attacchi, poi abbiamo la parte di scelta delle contromisure, anche qui ci sono fenomeni molto interessanti su cui sarebbe bello ragionare, nel senso ad esempio se voi andate a parlare con un esperto di sicurezza vi dice più o meno, tutti noi per primi abbiamo sempre assunto che tanto più difetti voi eliminate da un sistema, tanto meglio il sistema resisterà agli attacchi, quindi diciamo più o meno sempre nel campo della sicurezza si è fatta questa ipotesi di dire che se hai un sistema con 100 difetti e ne elimini 50 le cose migliorano in un certo modo, se ne elimini 75 migliorano un po' di più, se ne migliori 80 e così via, non è vero, la cosa interessante è che se modellate nel dettaglio come si comporta un attaccante, ad esempio potete avere un attaccante terribilmente stupido che prende la via sbagliata per attaccare il sistema, voi eliminate i difetti, eliminate proprio quelli che lui usa e questo cosa deve fare a questo punto? Prende la strada più intelligente e quindi avendo migliorato il sistema in realtà avete facilitato la vita dell'attaccante. Ci sono fenomeni di questo tipo, la prima volta che si incontrano lasciano sempre, uno dice ok è sbagliato lo strumento, debagghiamo lo strumento, dopo 10 giorni uno comincia a chiederci se non ci sia un'altra ragione, sono fenomeni altamente non lineari. Attualmente stiamo lavorando sulla parte di monitoraggio, quindi come usare tutte le informazioni che produciamo anche per il monitoraggio. Qui ci sono alcune delle cose che abbiamo fatto, se qualcuno fosse interessato dire possiamo inviare, fine, questo è uno strumento che si chiama Ruspex e questo ovviamente è una Ruspex che sta facendo il suo lavoro, quindi noi stiamo cercando di rifare la stessa cosa ma invece del fegato ci occuperemo di, ci stiamo occupando di sistemi CT, fine.